Sto facendo i lavori di spianatura dell'orto, naturalmente quello che vedete è stato fatto ieri quando ero solo, adesso però oggi è arrivata la ditta che sta facendo il lavoro molto in fretta. Carica, carica, load, charge, charge, ecco, voilà, grande, uè, tira a te, suri, va, 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 ok, è buono, è buono, continua, continua, via, via, spostatevi, tu ti c'è, adesso, 3, 3, è buono, 4, 4, è buono, voilà, ok, è buono, adesso tocca la biloa, biloa, change, 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 che le fatighe la, 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 ecco, attenzione, buono, no lì troppo, no troppo, la, la, tutta la parte, buono, charge, charge, la voglia, charge laillionza, charge laatarra, guarda, 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 forza, vuoi sei buono, sei boono, dai dai, forza, guarda che tu te cacci, te cacci l'odore, allora non mi resta che augurarvi di continuare vi mandare saluto a tutta la gente ecco dice benvenuta Beatrice benvenuta Beatrice benvenuta Beatrice ecco tanti saluti ti filmi si si ok tu non toccas rien tu continui con ça non toccas vado a me che ho fatto un lavoro differente come funziona meglio Amelia Amelia è buon è buon è buon qui è qui non no non Ciao, ciao! Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Cosa, perché non so? Non so, non so. Oh, c'est duro. Più è finito. Attenzione. Prè. Mette, 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 come caccio si dice. Le barbouche. Le barbouche. Prends le vetre, le vidre, ecco, donne a moi, viens donne a moi, ah que tu as su le persil, c'est bon, c'est bon, finit, ça va.